In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva, da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino. Luce alla mia mente, guida il mio cammino. Non mi sembra vero che Tu esista così. Non mi sembra vero che Tu esista così. Eppure quel non mi sembra vero, così carico di emozione e commozione, a Nazareth diventa un secco e perentorio, non è vero. La meraviglia viene soppiantata dall'incredulità e quindi dallo scandalo. E così nella sua stessa patria Gesù non viene riconosciuto. Eppure sarebbe stato così bello avere come concittadino il Messia atteso da Israele. Pensate, avere come concittadino lo stesso Dio incarnato nell'uomo Gesù. Pensate cosa si lasciano sfuggire gli abitanti di Nazareth. Poter dire, ho giocato con Gesù da piccolo. Ho comprato da Gesù il Messia, il figlio di Dio, gli infissi delle finestre, dato che faceva il falegname. No. Gesù non ha ricevuto il successo che solitamente ottengono gli eroi dello sport quando tornano in patria vincitori di un trofeo. Gesù aveva già compiuto segni e prodigini i villaggi vicini. Ma quando torna a Nazareth non viene creduto. Perché? Perché in fondo non gli pare vero che esista un Messia così. Ma questo non vale anche per noi. A volte mi dico come possono i grandi studiosi di scienza, di fisica, di astronomia, coloro che indagano sugli spazi infiniti del cosmo e del microcosmo, non cogliere che esista una mente ordinatrice di tutto questo. Che esiste un Dio al di sopra che armonizza, che guida, che cura, che ha in mano ogni cosa. Sarebbe troppo bello se ci fosse. E allora si preferisce credere che non ci sia. Sarebbe troppo bello se non ci sia.